lo studio numero 1 di primo canale sound cercando di parlare piano per non disturbare chi sta accordando il pianoforte dello studio numero 1 di primo canale sound mentre nello studio qui accanto proprio da questa parte possiamo anche bussare c'è lo studio numero 2 e lì tra poco troveremo una band giovanissimi tutti ragazzi molto giovani che suonano la batteria il computer e poi c'è anche la voce ma come soltanto la batteria il computer e la voce sono in tre sono i magellano tra l'altro si scrive di loro già sui giornali guardate i magellano sul ring oggi sul ring di primo canale sound ma una puntata speciale di primo canale sound e non soltanto perché stiamo accordando il nostro pianoforte nello studio numero 1 perché ci sarà una sorpresa anche con due volti noti della televisione con luca pellegrini e giovanni porcella che ci spiegheranno nel corso della trasmissione quali sono le canzoni che rappresentano un qualcosa di importante per la loro vita per la loro professione abbiamo tante cose da scoprire insieme ci saranno anche altri ospiti cominciamo subito a conoscere in magellano quanto tempo ci vuole per accordare un pianoforte bello importante come questo ci vuole tanto tempo nel corso della trasmissione ci accompagnerà giorgio ferrari posso dirlo buongiorno giorgio qual è la caratteristica di un accordatore soprattutto il silenzio perché fa parlare le note fa parlare il pianoforte noi tra poco faremo parlare giovanni porcella giovanni porcella che ci spiegherà quali sono le sue canzoni preferite allora state con noi qui su primo canale sound perché scopriremo le tre canzoni che hanno accompagnato la vita di un giornalista bravo come giovanni porcella state con noi giorgio ferrari continua ad accordare il pianoforte il nostro pianoforte quello di primo canale sound nello studio numero uno posso disturbare solo un attimo perché siamo arrivati quasi alla fine della scala e anche quasi alla fine della trasmissione ma abbiamo ancora delle cose interessanti a farvi vedere giorgio non esiste uno strumento elettronico per accordare il pianoforte si esistono io non però non ne faccio uso almeno per il momento perché mi trovo bene così l'ho sempre fatto così si chiama orecchio assoluto so che si infatti giorgio lei conosce luca pellegrini l'ho sentito nominare ex capitano della sandoria che vinto lo scudetto si sentito nominare ma niente di più le canzoni preferite di luca pellegrini le tre canzoni che gli hanno cambiato la vita scopriamole insieme state con noi su primo canale sound tra poco luca pellegrini siamo arrivati quasi alla conclusione di primo canale sound giorgio ferrari ha concluso l'accordatura di questo pianoforte giorgio quanto tempo per accordare un pianoforte ma è proprio così difficile quanti anni di esperienza ci vogliono allora ci vogliono in circa un'ora e mezza poi dipende dalla situa dallo stato le condizioni dello strumento sono 37 anni che faccio questo mestiere ho cominciato che avevo 17 anni e sono ancora qui adesso è un mestiere molto bello che non cambierai con tanti altri nonostante è riuscito senza strumenti elettronici con l'uso del diapason vediamolo qua insieme questo è il diapason uno degli strumenti più antichi in assoluto che esista vogliamo spiegare rapidamente giorgio l'utilizzo del diapason allora questo qui è praticamente la nota di partenza per accordare il pianoforte deve corrispondere con la del dello strumento in questo caso il pianoforte è quello che dà livello l'accordatura e che fa in modo che possa essere accordato con tutti gli strumenti questo è il livello di tutti gli strumenti con questo diapason si accordava il pianoforte per esempio i tempi di beethoven mozart e si continua anche oggi più o meno da sempre anche se il livello di frequenza era diversa è cambiato nel tempo ad ogni modo il principio la tecnica è quella il principio sempre che questi sono i ferri del mestiere che sono alcuni sono anche segreti quelli del nostro accordatore che ringraziamo per la pazienza prima di sentire ancora il magellano con la canzone il pezzo con cui ci saluteranno e quindi toccherà francesca baraghini presentarli dallo studio numero due di primo canale sound questi ragazzacci con la loro musica hanno un po disturbato l'accordatura l'accordatore il nostro accordatore ma noi prima andiamo con Dario Vassallo a sentire le parole di un grande del cinema italiano che proprio in è stato assegnato a cui è stato assegnato a genova il grifo d'oro uno dei premi più importanti e allora andiamo a vedere insieme con Dario Vassallo chi ha vinto il grifo d'oro e allora andiamo a vedere insieme con Dario Vassallo chi ha vinto il grifo d'oro il grifo d'oro